Allora, con la trippa in evidenza, ieri per primo uno spaghettino con sugo alle vongole, doppia razione di quelle mie, cioè 500 e 500, quasi un chilo, poi un po' l'abbiamo lasciata perché se no pareva brutto prendergliela tutta, per secondo c'era filettini di maialino con erbette al curry, soffritti, buoni, fate un idiome, per contorno un cecino alla pakistana leggermente piccante, con fiume di Tuller Murgau, poi dopo per deliziarci il palato, un dolcino leggermente bruciato in crosta ma buono dentro con pinolini, poi c'era anche il limoncello Ma, insomma, questa è stata la seratina, tornata alle 2. E ora che c'è da fare? La salita lì. Ora sì. Eh, ora voglio dire come tu stai. C'è da andare dalle vergini a fare un cerimoniale, se si arriva. Secondo me siamo amvergini per quello perché non c'è mai arrivato nessuno.